Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo a Windows Installer che non riesce a installare il pacchetto di installazione che non riesce ad aprirsi, quindi contattare il venditore dell'applicazione e verificare il pacchetto di Windows Installer quindi se avete problemi con questo errore andiamo direttamente su servizi, scendi fino a giù fino a trovare il servizio Windows Installer e come puoi vedere il mio stato del servizio è arrestato e quindi non funziona il Windows Installer facciamo avvia, avvia così il servizio e se sul tipo di avvio ti fa modificare così il tipo di avvio manuale o automatico tu metti automatico, poi fai applica, fai ok, chiudi tutto e riavvia il tuo sistema operativo per altri problemi commenta sotto al video, se ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao